Era stata istituita nell'autunno scorso e mercoledì si è riunita per la prima volta. Parliamo della Commissione Paritetica Stato-Regioni-Enti-Locali per il rinnovamento delle istituzioni della Repubblica e per il sostegno allo sviluppo e alla crescita economica, alla quale ha partecipato anche il Sindaco di Pavia, Alessandro Cattaneo, in qualità di Vice Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Sindaco Alessandro Cattaneo, prima seduta a Roma mercoledì di questa Commissione Paritetica, particolarmente importante proprio in questo momento storico per il Paese. Ebbene sì, finalmente ha preso avvio questa Commissione Paritetica che era stata avviata dal Presidente Governo, poi per l'arrivo di uno nuovo esecutivo si è dovuto aspettare la convocazione di ieri. Il tema è molto caldo, molto sentito dai cittadini, ovvero il riordino delle istituzioni, che significa parlare di questa benedetta o maledetta abolizione delle province, di questo tema dell'accorpamento o eliminazione dei comuni sotto i mille abitanti, insomma temi molto cari al cittadino, temi molto cari alle istituzioni. Il contributo che ha portato come Vice Presidente nazionale di Anci è stato quello di un approccio che non può non vedere e non partire dai sacrifici che anche le istituzioni devono fare prima ancora di chiederle ai cittadini e quindi è giusto sedersi a quel tavolo cercando di capire come rendere i servizi in un modo migliore al cittadino. E quindi questo vuol dire che probabilmente degli accorpamenti possono rendere più efficaci l'erogazione dei servizi, penso per esempio alle polizie locali, penso ai servizi sociali, in cui piccoli paesi è più efficiente e che possano mettersi insieme tra di loro. In nome di una casta, tutti quanti all'interno di categorie con una percezione negativa, questo è assai sbagliato perché il tema economico è un tema che va guardato ma i dati vanno analizzati a fondo per non ritrovarsi poi addirittura magari con una perdita di efficienza e di qualità dei servizi. Questo è lo spirito con cui abbiamo avviato questa commissione, presenti tre ministri del governo che quindi seguono attenzione a queste attività e l'appuntamento sarà settimanale proprio per dare un'intensità ai lavori. E nella prima seduta, voi sindaci, quale tematiche in particolare avete affrontato? Noi sindaci nella prima seduta, accanto al tema dei piccoli comuni che sicuramente riguarda tanti degli 8.000 enti locali comunali italiani, abbiamo posto quello che è per tutti i sindaci e sappiamo bene quanto è grave questo tema, è la priorità in questo momento, la revisione del patto di stabilità. Sicuramente anche qua l'approccio non vuole essere demagogico, il patto di stabilità è un buon modo per controllare la spesa pubblica, è vero, questo ha già reso i comuni gli elementi più virtuosi all'interno dell'assetto pubblico che hanno garantito in questi anni recenti anche il rispetto e il rientro nei parametri che l'Europa chiede. Quindi questo è vero, ma è anche vero che il patto di stabilità ha delle oggettive anomalie, è vero che i comuni hanno in cassa dei soldi che potrebbero spendere e che non spendono, è vero che il patto di stabilità italiano è differente e ancora più stringente rispetto ad altri modelli europei. Allora ecco abbiamo chiesto a gran voce non un pregiudiziale no dell'attuale governo, ma la volontà e l'impegno serio a sedersi al tavolo e guardare queste cose nel merito. Bisogna rivedere il patto di stabilità per dare sviluppo ai nostri territori e quindi tutti insieme anche all'intero Paese. Grazie.